buongiorno se sentirete trapani sottofondo non è la città della sicilia naturalmente ma sono dei trapani perché si sta lavorando qua attorno a casa mia e quindi è probabile che ci sia qualche interferenza io cercherò ovviamente di passarci sopra però sono cose che succedono e quindi prendiamole così come sono. Allora vi do una notizia Ramsey salta il derby con il Celtic di Glasgow per infortunio attenzione no adesso per carità un po' di ironia ti scappa naturalmente Van Broncos l'allenatore che l'aveva visto allenarsi ieri o ieri l'altro eccetera aveva detto che stava piuttosto bene invece evidentemente c'è ancora qualcosa che non va non dimentichiamo che il giocatore è a riduce dal covid e quindi può essere anche che non sia perfettamente in forma insomma tutto ci sta tra l'altro sono andato a vedermi un po' su transfer market così per curiosità che stamattina lo storico di Ramsey negli ultimi tre anni ed è veramente agghiacciante cioè ci sono 44 giorni 17 giorni 4 giorni 8 giorni 130 giorni 130 giorni come direbbe la voce di fantozzi nel 18 19 ma lì c'era stata c'era stato l'infortunio serio prima di arrivare ovviamente alla juventus e poi comunque anche negli anni la juventus insomma ha veramente partecipato poco alla causa bianconera diciamo che questa volta nemmeno il cambiamento d'aria e l'avvicinamento ad un'aria molto più vicina a quella sua della sua nazionale eccetera ha portato dei benefici ma questa volta questa volta c'è anche il discorso di post covide diciamo così da considerare sicuramente nel suo gruppo certo che gli salta il derby con il celtic abbiamo già parlato di due minuti di ramsey e quindi non ne parliamo più magari il prossimo minuto invece lo dico a quanto avrebbe dichiarato nandes del cagliari in realtà la dirigente del cagliari si è fatta portavoce di quanto dichiarato dal giocatore e quindi non sarebbe voluto andare alla juventus in prestito perché non voleva sentirsi sotto esame mi permetto di di essere un po perplesso insomma ecco perché se ammesso che abbia veramente detto così però lo riportano i dirigenti del cagliari se una dichiarazione del genere non so me la fa de bruin allora dico sì effettivamente insomma de bruin a non ha niente da dimostrare se fanno altri centrocampisti in giro per l'europa di una certa levatura e che vengono da squadre importanti mi dico effettivamente sì hanno ragione ma credo che in questi casi nemmeno la juventus no avrebbe proposto il diritto di riscatto e quindi riservandosi di valutare il giocatore quanto a nandes senza nulla togliere per carità di dio e senza voler essere polemico assolutamente no ma gioca nel cagliari che non è sicuramente un top club club di tutto rispetto ha vinto anche un campionato i tempi di gigi riva stava per partire un trappolo un trapano forte allora mi sono fermato debitamente no dicevo cagliari città sicuramente importante simbolo l'intera regione ma cagliari non è un top club e nandes e nandes non è de bruin non è altri centrocampisti che ci sono in circolazione non c'è secondo me poteva anche accettare che la juve lo valutasse prima poi di riscattarlo cioè si trattava ovviamente di mettersi in gioco effettivamente di dimostrare quello che si vale cioè se lui è veramente conscio del suo valore delle sue capacità della sua preparazione tecnica e tattica non avrebbe avuto non avrebbe dovuto aver paura di sottoporsi all'esame della juventus ragazzi comunque di un top club no vabbè dopo ognuno è libero di fare le proprie valutazioni eccetera ripeto se lui effettivamente ha detto così come riporta a dirigenza dei caleri mi permetto di fare questa questa osservazione senza voler necessariamente criticare nessuno lungi da me proprio l'idea di farlo finalmente ci stiamo avvicinando al momento topico e qual è il momento topico nel calcio finalmente la partita ragazzi perché non se ne può più di tante chiacchiere anche delle mie lo so sto riempiendo i vostri pomeriggi e le vostre sere di tante chiacchiere poi mi fa piacere perché mi arrivano sicuramente tanti attestati di stima e quindi questo sicuramente è uno stimolo per continuare a farlo sono qua a parlare tranquillamente come se parlassimo al bar ragazzi perché è vero che io posso sapere qualcosa di più di voi ma questo non significa che io debba elevarmi a chissà ad oracolo che anzi gli errori li ho fatti anch'io come beh sapete come tutti del resto e quale formazione perché adesso le ultime indicazioni danno in pol morata rispetto a dibala ma è un'idea che c'eravamo fatti nel senso che dibala si è messo a disposizione praticamente appieno solo da oggi e quindi è chiaro che massimiliano allegri fa questo tipo di questo tipo di valutazione privilegiare coloro che in pratica hanno potuto lavorare tutta la settimana rispetto a chi ha lavorato meno è vero che di bala ha giocato mi sembra solo 20 minuti della seconda partita comunque non l'ha giocata tutta ma comunque c'è il discorso dei trasferimenti dei viaggi e tutto quanto tutto il tutto il resto da considerare e anche se vogliamo i pochi giorni per entrare in sintonia con vlaovic perché qui adesso la juve non può più aspettare ragazzi la juve deve portare a casa i risultati deve portare a casa i risultati e quindi non può permettersi di sbagliare o comunque deve limitare al massimo il proprio margine di errore quindi se in questi giorni allegri ha valutato che è meglio che vlaovic dialoghi con morata nella fase offensiva evidentemente avrà oltre sue ragioni sia un altro perché morata ha avuto più occasione di giocare con con vlaovic in questa settimana dopodiché ci metterà poco credo di bala a rimettersi in passo e quindi riguadagnare le proprie posizioni perché non è pensabile che con l'arrivo di vlaovic di bala vada a finire in panchina è totalmente impensabile dire no quindi vediamo un po insomma è interessante capire quale sarà lo schieramento di partenza interessante capire quale sarà il modulo considerando anche che la juventus è costretta tra virgolette a far giocare dall'inizio anche zaccaria perché locatelli squalificato potrebbe giocare in mezzo lui con arthur e migliorino da dire bentacur perché ormai sono come le canzoni ora continui a cantarle e quindi le parole ti vengono automaticamente in questo caso invece con rabbio e quindi zaccaria in mezzo perché anche mckenny è uno credo che sia arrivato oggi pure lui quindi anzi lui è arrivato oggi se non sbaglio tra l'altro ha pure segnato una partita molto difficile anche dal punto di vista climatico sotto zero eccetera quindi però comunque arriva all'ultimo istante quindi ci sta questo centrocampo a tre con arthur zaccaria e rabbio e dietro sapete di alexandro che ha contratto il covide quindi non potrà essere la partita è rimasto in brasile fino a quando si negativizzerà e quindi giocherà luca pellegrini a sinistra è molto probabile che ci sia danilo a destra con bonucci vedremo sarà decisivo secondo me domani bonucci e scusate a questo punto spendiamo delicte chiellini come come copie centrale ma c'è sempre comunque anche rugani si tratta di vedere se sarà 4 4 2 4 3 in questo caso attenzione perché 4 3 3 costringerebbe in un certo senso non essendoci bernadeschi costringerebbe allegra e far giocare quadrado che a sua volta è appena rientrato da sudamerica quindi non è una situazione fluidissima non è una situazione fluidissima vedremo quali soluzioni vorrà adottare tecnico bianconero però ripeto l'importante è per la juve in questo momento assolutamente votare a casa punti e attenzione perché insomma anche le altre squadre le altre società cominciano a mettere un pochino più di pressione alla juventus perché le parole fresche di simone inzaghi alla vigilia del derby di milano nel nei discorsi insomma si 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 è sentito dire che non solo il milan anche se dovesse vincere l'inter non solo il milan non sarebbe dato fuori la lotta per lo scudetto ma a questo punto anche la juve può rientrare nella lotta per lo scudetto strategia si cerca di mettere maggiore pressione la juve è abituata alla pressione se la creerà da sola eventualmente ma staremo a vedere di settimana in settimana ciao ragazzi a questa sera iscrivetevi al canale